è stato venite l'entusiasmante perché ritrovarsi veramente è stata la prima vera occasione dopo tanto tempo di rincontrare persone che non abbiamo più visto fisicamente da tre anni entusiasmante parecchia gente gestita bene è stata per noi una un bilancio molto positivo la nostra poi è un'azienda molto rivolta all'estero facciamo circa un 65% di export per cui abbiamo avuto tutti i nostri clienti europei sono venuti praticamente tutti l'asia purtroppo è mancata perché sappiamo perché nord america abbastanza ma tutti di grande qualità secondo me è stata molto positiva